Come si svolge la giornata di un campione del mondo? Io mi sveglio alle 4 del mattino per andare a lavorare, lavoro fin verso le 2, faccio il fornaio e il pomeriggio solitamente se riesco vado un paio di volte alla settimana in palestra e alla sera ad allenarmi. Un gesto di riconoscenza da parte della regione nei tuoi confronti? Diciamo sempre che vengono definiti sport minori ma la fatico e l'impegno è uguale a quello degli sport maggiori. Gli americani li abbiamo battuti lanciando ogni palla al meglio e rimanendo concentrati e umili cosa che loro non hanno fatto perché sono saliti in pista credendo già di aver vinto come per loro è normale. Noi stiamo cercando come regione di premiare con un piccolo riconoscimento anche simbolico chiunque indipendentemente dallo sport che fa porta questa regione ai vertici nazionali, europei e internazionali e sono davvero tantissimi quelli come lui che riescono ad avere risultati importanti. Certo che in questo caso abbiamo addirittura un campione del mondo.